Oh, Santo Cielo! Padre Celeste, rendici strumenti nelle Tue mani e aiutaci a risolvere i problemi che ci si presentano. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Una donna e la sua bambina di 15 mesi sono state uccise nella loro casa. Abbiamo bisogno dell'aiuto dei cittadini. La nostra comunità non è abituata a chiudere le porte a chiave. Quindi, per ora, sarebbe opportuno comportarci con prudenza. Le prove raccolte sembrano indirizzarci verso credenze di cui ho sempre e solo sentito sussurrare. Io non vado a scavare nel passato. Non farlo neanche tu. Quando qualcuno posava gli occhi su di lei ne restava affascinato. C'è una presenza maligna nella sua famiglia. E se non fosse solo un marito il cui cuore si è ribellato a sua moglie? E se stanotte fosse solo la prima parte di un osso che finalmente si apre la strada dal suolo del nostro deserto? Mani in alto, subito! Non è un semplice omicidio. Va oltre tutto ciò in cui credo. Occhi per la strada